è stato salvato il mondo si salviamo il mondo tutti insieme vai allora stavo dicendo allora adesso sono qua allo spawner di scheletri così vi faccio vedere come a parte il fatto di farmare esperienza faccio vedere come come si modifica lo spawner in modo che sia efficiente al massimo e e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.